E si ricomincia a giocare Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco Come se fossero ancora sullo 0-0 La gioca in mezzo Incredibile traversa Tiro di Isaac E si, trova la rete Due gol in più E partita saldamente nelle loro mani Semplice ed efficace Ha capito dove sarebbe andato il pallone Ed era pronto a segnare Si può insegnare tanto ai giovani che si avvicinano al calcio Ma questo tipo di istinto è una qualità innata Difficile da allenare Semplicemente devi essere già lì quando la palla arriva Aleksandr Isak 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 Grazie a tutti.